Cosa ti ho detto capo? Siamo neri, ma siamo puliti. Vuoi vedere come ti volevo sto sorriso da sta faccia de merda che c'hai? È bella la tua. Come hai detto, scusa? Ho detto sarà bella quella faccia da cazzo che te ritrovi. Aspiritoso. Vieni giù, vieni. Hai mai sentito parlare di oltraggio a pubblico ufficiale? Come no? Non sai le volte che mi hanno mannato a fanculo pure a me. Ma che sei un collega? Eh già, ma mica stronzo come voi due. Invece di piantela con sti poracci, andate a rapia con chi scippa e vecchia. Andate a rapia con chi stupra, con chi violenta. Andate a rapia con chi venna la droga e i ragazzini. Anzi, andate a rapia under culo, tutte e due.